E' ora, Lucas. L'estate è finita. Devi tornare da tuo padre. E devi restituire Abel al suo mondo. No! Una parola, finalmente. Abel ha il suo istinto. Lui ricorda com'era la vita selvaggia. Se lo fai rimanere, quegli impulsi svaniranno. Non sarà più in grado di tornare alla montagna. Non sarà mai libero. E' questo che vuoi? Abel è il figlio del vento.